Martedì 7 aprile, buongiorno, ben ritrovati a tutti cari telespettatori di FanoTV sul canale 17 del digitale terrestre come sempre Tutte le mattine da lunedì al sabato in diretta c'è la rassegna stampa, occhio ai giornali, daremo uno sguardo ai quotidiani con gli inserti locali di Pesaro e provincia Come sempre però prima uno sguardo al calendario, oggi è San Giovanni Battista della Salle, sacerdote, il sole è sorto alle 6.42 e tramonterà alle 19.39 Guardiamo adesso subito il tempo, guardate sembra un quadretto dipinto, in realtà è una fotografia che è stata scattata dalla nostra webcam dell'osservatorio meteorologico di FanoTV E allora ecco come si presenta Fano questa mattina, le prime luci dell'alba alle 7.30 Allora questo dicevo è la fotografia, la temperatura è di 8.3 alle 7.30 Vediamo le previsioni per oggi, martedì 7 aprile avremo un cielo nuvoloso con attenuazione della nuvolosità nel corso del pomeriggio Si prevedono rovesci sparsi ma diciamo che ormai il peggio è passato Per domani, mercoledì c'è il sole nella nostra provincia, provincia di Pesaro Urbino Un po' di nuvole invece in quella anconetana ma poche cose Temperature in aumento per i prossimi giorni, il resto della settimana sarà l'insegna del tempo stabile Con temperature in graduale aumento Allora cominciamo a leggere i giornali, partiamo dal resto del Carlino e dal crack della Confartigenato Che per dei pezzi fallisce Confart, 20 milioni di buco, tutti licenziati 120 dipendenti Non hanno più lo stipendio da tre mesi Venendo meno molto lavoro con l'avvento della crisi I vertici hanno deciso di smettere di versare i contributi e di pagare le tasse L'eterno Presidente, alla guida dell'organizzazione c'è ancora le Arco Bastianelli Nello stesso ruolo da 30 anni La pagina di Fano invece, Cortili letterari Ultima, un'occasione per leggere la città Presentata la terza edizione dal 25 aprile Per quattro sabati altrettanti iscrittori presenteranno i loro libri nei palazzi storici Erbace, anche i cittadini invece devono fare la loro parte L'invito del Comune di Fano ai privati per tenere in ordine le aree di competenza Caso Concordia, la CPL Concordia Paolini della Lega Nord contro Carloni Deve informare gli inquirenti E ce n'è anche per Massimo Seri È eticamente corretto accettare soldi dai fornitori dell'amministrazione? Si domanda Luca Rodolfo Paolini Nei giorni scorsi era stato proprio il Carlino a evidenziare come la CPL Concordia Aveva elargito per la campagna elettorale di Massimo Seri Qualche migliaio di euro che comunque erano stati dichiarati pubblicamente La triste addio a Silvia, Silvia Gadani, l'architetto che amava i cani Funerali domani al Poderino alle ore 16 nella chiese di San Pio X nel suo quartiere Dove è cresciuta i funerali dell'architetto di 41 anni trovata morta a Roma Il primo aprile scorso dopo la cerimonia funebre il feretro verrà cremato Perché la donna possa trovare rifugio per sempre in un luogo a lei caro Vicino ai suoi affetti più intimi Il problema delle frane, frane e strade bloccate Il territorio non regge più, grave smottamento ad Orciano Viabilità in tilt è successo nell'area fra il centro storico del capoluogo e la località Montepietro La strada resa del tutto inutilizzabile Quella che collega la zona del cimitero con l'area a valle Ricca di casolari, villette, oliveti e vigne Fano dati una mossa, accorpamento Il sindaco di Mondolfo sollecita e dice in sostanza Insomma, dati una mossa Gli impegni e soprattutto le regole esigono rispetto È un'esortazione quella del sindaco di Mondolfo Pietro Cavallo Che così diventa sempre più simpatico Naturalmente fanese non solo Alla giunta della città della fortuna Non è l'argomento, neanche a dirlo, è quello del passaggio di competenze Fra le due municipalità A seguito dell'accorpamento amministrativo di Marotta Sotto il comune cesanense Ancora, da Sant'Angelo in Vado Serve un nuovo armaiolo Altrimenti addio restauri I lazzarini di Sant'Angelo in Vado Fanno un appello La cessazione del lavoro di armaiolo Ha messo in allarme anche molti cacciatori Apriamo il Corriere Adriatico Archiviate le feste, è già tempo di lavori Pista ciclopedonale a Baia Flaminia E interventi alla media a Ligieri Ecco il cronoprogramma I cantieri potrebbero già partire nei prossimi mesi E concludersi prima dell'inizio del prossimo anno scolastico Mentre per quanto riguarda la viabilità a due ruote Statale 16 Ciclabile, asfaltatura e nuova illuminazione Il tracciato da Via Tolmino a Santa Maria delle Fabrecce Per un importo di circa 370 mila euro Pasqua sotto il diluvio Con due frane Invece sull'altra pagina del Corriere Rientrate nelle loro case 33 persone evacuate a Sasso Corvaro Ad auditore invece ancora emergenza La pagina di Fanno invece apre con la Pasqua Con pochi turisti Al museo 200 visitatori L'apertura gratuita ha suscitato interesse Ma il lungomare in diversi tratti è apparso poco curato Gare per la gestione invece della Rocca Malatistiana del Bastione Sangallo Così i beni culturali saranno fruibili Fruibili dalla città Dopo la realizzazione della seconda uscita di sicurezza Parla l'assessore alla cultura Marcheggiani Previsti i lavori anche all'ex chiese di San Francesco L'assessore vuole disporre Una copertura Intanto è stata restaurata la facciata del Sant'Arcangelo Che si trova in Corso Matteotti Poi sempre sotto Oggi è festa della Madonna del Ponte Una mezza festa per i fanesi Ci saranno il Vescovo e la Pandolfaccia Tra valore religioso, animazione storico, folcloristica E un po' di svago In mattinata verranno celebrate tre messe Alle 7.30, alle 9 e alle 11.55 Una quarta nel pomeriggio alle 17 Che vedrà la partecipazione del Vescovo Trasarti Poi si parla delle strade danneggiate Che verranno asfaltate Anche se i fondi restano insufficienti Ci sono delle vie che verranno asfaltate E sono quelle per esempio vicino alla zona dell'ospedale Si tratta di via Giordano Bruno Via Pizzagalli, via Lelli, via Giuglini Via De Borgarucci, via Gigli Insomma c'è anche via del Ponte Tante altre vie che potrete leggere sul giornale di questa mattina È morto Pierluigi Barbadoro Campione di sport e di vita Rimpianto giocatore e allenatore di basket Aveva 75 anni È morto sabato scorso in un ospedale di Milano Era da tempo malato La salma verrà cremata Il rito funebre sarà in forma strettamente privata Le ceneri verranno conservate poi al cimitero urbano di Fano Domani l'addio anche a Silvia Parte la raccolta fondi dell'ente nazionale per la protezione animale Una raccolta fondi per comprare cibo da destinare ai gatti rimasti orfani E ancora sempre dal Corriere Adriatico Profughi un protocollo per l'accoglienza Dopo la difficile esperienza dell'hotel Plaza La Caritas e il Comune cambiano le regole e le modalità per l'accoglienza Il messaggero di Pesaro invece apre come sempre con la politica Con le regionali Quattro liste per il candidato del PD Ceriscioli PD, PSI, Verdi, Moderati e Civiche A sostegno del candidato governatore dei Democratici Settimana Calda per definire tutti i candidati E gli assetti per le regionali A centropagina Monte Feltro Frana il Monte Sgomberate 11 famiglie Mentre a Fano una nuova odissea per Viale Ruggeri I ristoratori di quella zona si dicono amareggiati VL come l'Inter Niente ferie Sosta pasquale annullata dopo il K.O. con Cremona Domenica giocatori in palestra Spot per il San Bartolo Ma secondo la Rai è in Romagna Il marchiano errore durante la trasmissione di Z-Driver Che descriveva gli itinerari a due ruote All'interno del parco appunto del San Bartolo Ancora politica dal messaggero Forza Italia divisa su spacca Accordo lontano Trenta vuole la corsa solitaria con Celani O Castelli, Ceroni e Bugaro Contrari deciderà Berlusconi Ma tanti veti incrociati Ancora piove all'interno del Palace di Pesaro Ma è l'ultima volta Spettatori costretti a spostarsi e pozzangheri in campo Nel match di sabato della Consulting West con Cremona Ma l'assessore Biancani rassicura I lavori al tetto partono entro giugno Per la prossima stagione sarà tutto a posto Anche perché poi arriva Violetta Per cui bisognerà sistemarla questa cosa Villa Fastigi non torna a casa Lo cercano tutta la notte Per un trentenne che non era rientrato a casa I familiari temevano il peggio L'uomo che è dell'Europa, dell'Est Sta attraversando un periodo di crisi Da qui la preoccupazione dei parenti ovviamente Il trentenne è stato poi rintrecciato in stato confusionale Ma comunque è in discrete condizioni di salute Via Giordano Bruno a Pesaro in degrado La rabbia dei commercianti Negozianti dicono 10 anni fa C'erano 34 attività aperte Ora ne sono rimaste poco più di 10 Da soli non ce la facciamo più Apriamo la penultima pagina del messaggero Per dirvi del freddo, della pioggia e della neve Che ha caratterizzato questo weekend pasquale Più che Pasqua sembrava Natale Abbondanti precipitazioni sul Nerone Sul Catria e il Monte Carpegna Tanto da far riaprire alcuni impianti sciistici Ci chiudiamo con la pagina di Fano La burrasca di Pasqua si abbatte su Viale Ruggeri I ristoratori della Zora dicono Amareggiati è il peggior modo per inaugurare la stagione Poi le vittime del bullismo da maggio Avranno un nuovo centro di sostegno Questa è un'iniziativa importante Che andrà in qualche modo promossa Avrà sede a Fano nel quartiere di San Martino Questa associazione Voci nel Vento Si tratta di uno sportello A cui potranno rivolgersi i ragazzi E le ragazze vittime delle prepotenze E dei soprusi attuati da loro coetani Ma gli organizzatori intendono farne un luogo utile Anche per genitori ed insegnanti Infine la inchiusura Fondazione Teatro Avanti ad ostacoli Attesa la prova della commissione di garanzia e di controllo Ed è tutto per la rassegna stampa di oggi Grazie per averci seguito Vi auguro una buona giornata E vi ricordo che questa sera alle 20.30 C'è il nostro telegiornale Occhio alla Notizia Arrivederci Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie